Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la modifica della legge regionale 77 del 1998, che determina i limiti massimi di costo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, con l'obiettivo di dare coerenza al sistema di norme che regolano la materia in questione, in quanto il rispetto dei limiti di costo non risulta essere sempre compatibile con l'applicazione del prezzario regionale aggiornato. In particolare, determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi e i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto ministeriale del 1994. Una leggina abbastanza semplice ma importantissima. I lavori di ristrutturazione delle case popolari si stavano bloccando, anzi si sono bloccati in tante parti, perché per gli ERP c'è un limite al costo che si può sostenere nelle ristrutturazioni, che è stabilito da un decreto ministeriale che la giunta regionale ogni anno riadotta. Questo limite di costo, a causa dell'inflazione, diventava ogni anno troppo basso e quindi faceva sì che poi non si trovavano le ditte per fare i lavori rallentando l'adeguamento di alloggi ERP. Noi sappiamo quanto sia importante la ristrutturazione dell'alloggio e quindi dare una risposta ai nostri cittadini. Con questa legge diciamo che la giunta può ovviamente rispettare i limiti nazionali che ci possono essere a partire dal decreto del 1994, ma qualora vi è un aumento dei prezzi può usare come limite massimo il prezziario regionale che dallo scorso anno vede un adeguamento dei prezzi non solo a volta l'anno ma anche all'interno dell'anno e che quindi è aggiornato su quello che è l'andamento inflattivo. Quello costituirà il limite massimo di costo che si può utilizzare e che si può sostenere per l'alloggio ERP e che dovrebbe essere assolutamente adeguato in linea con i prezzi e quindi ci permetterà di far ripartire tanti cantieri che ora sono bloccati. Siamo sostanzialmente favorevoli, dobbiamo anche lì comunque eccepire alcune cose in quanto in commissione spesso abbiamo parlato delle case popolari, di come il danaro potrebbe essere riciclato vendendo determinati alloggi per poter mettere a regime altri che magari sono fermi soltanto perché devono essere rimessi in sesto. L'aumento del costo delle materie prime e non soltanto che è avvenuto in questi mesi è sotto gli occhi di tutti questo immobilizzava di fatto tanti appalti pubblici anche in ambito di edilizia residenziale pubblica e quindi era giusto che la regione, anche la regione toscana, intervenisse cambiando le regole rigide che erano previste per legge appunto rispetto all'acquisto delle materie prime in ambito ERP e quindi abbiamo in maniera convinta votato a favore di questo adeguamento normativo che fa sì che anche la regione toscana si stia al passo coi tempi e si stia dentro un contesto attuale che è un contesto, ahimè, da questo punto di vista completamente diverso rispetto a un anno e mezzo fa. In Toscana abbiamo poco meno di 50.000 alloggi ERP, di questi 3.000 sono vuoti perché non ci sono i soldi per metterli a norma, noi pensiamo che si possa intervenire vendendo un po' di alloggi popolari a chi già ci sta dentro, ovvero dandogli la possibilità di riscattarli. Con quei soldi si possono mettere a norma gli oltre 3.000 alloggi di edilizia popolare pubblica che non sono sul mercato e che quindi non possono essere messe a disposizione delle migliaia di toscane e toscani che invece hanno diritto a entrare dentro quegli alloggi. 3.000 alloggi vuoti significa circa 10.000 toscani che avrebbero diritto a una casa popolare e che non la possono avere perché non ci sono i fondi a sufficienza per ristrutturare gli alloggi già presenti. Noi diciamo vendiamone a chi già ci sta dentro 1.500 e con quei 1.500 che diamo a chi già ci abita e quindi li facciamo riscattare possiamo ristrutturare gli altri 3.000 che vanno a chi ne ha diritto. Sicuramente l'aumento, anzi la rimodulazione del prezzario è stata necessaria dal fatto che appunto il costo delle materie è aumentato enormemente ha fatto sì che molti appalti non fossero più sostenibili ai prezzi precedenti ma viene da considerarsi anche il combinato disposto. L'aumento dei prezzi collegato al fatto che l'edilizia popolare in tutti questi anni è stata fortemente trascurata anche dal punto di vista finanziario dalla Regione ha fatto sì che adesso ci si ritrovi a presentare una proposta di legge che cristallizza un aumento, un esborso enormemente aumentato da parte della Regione per rimettere in sesto degli appartamenti e degli immobili che lo ricordiamo come è stato denunciato anche da Sunni a CGL a gennaio sono moltissimi in pessime condizioni e soprattutto 4.000 di essi aspettano di essere riassegnati alcuni dei quali anche perché in condizioni non accettabili per poter essere dati ad altre famiglie. Non si può appellarsi adesso a un governo che è di matrice politica diversa dalla propria senza ignorare che nei decenni precedenti il Partito Democratico questa maggioranza ha potuto operare sia in Regione sia a livello parlamentare per poter rimediare a un piano case adeguato per tutte le Regioni. Quindi è assolutamente strumentale questo modo di fare. Abbiamo sicuramente votato a favore perché è l'unica soluzione in questo momento per riuscire a dare a tante famiglie bisognose degli appartamenti. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2021 dell'ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con 20 voti a favore e 10 contrari. Un bilancio in ritardo a causa del processo di riorganizzazione dell'ente e della carenza di personale, ha fatto presente la Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis. I costi della produzione ammontano a 4.990.000 euro, dunque il 14% in più rispetto al 2020. L'utile è pari invece a 48.331 euro, quindi il 27% in meno rispetto al 2020. Abbiamo approvato il consuntivo 2021, un consuntivo che riguarda un anno in cui c'è stato il cambiamento della Presidenza. Il Presidente Bani è subentrato con la nuova rappresentanza della Comunità del Parco a luglio, quindi è un bilancio a cavallo fra mandati diversi, presidenze diverse. In ogni caso è un bilancio che chiude inutile e segnala, credo, già un primo cambiamento di passo perché se leggiamo le cifre e i dati del bilancio vediamo come i ricavi dalle attività legate a quanto si svolge nel territorio del Parco, attività agricole, zootecniche e di valorizzazione comunque delle produzioni che nel Parco si sviluppano è aumentato. È chiaro che il Parco ha potenzialità enormi che devono ancora e maggiormente essere valorizzate e sviluppate. Credo che la Presidenza Bani per questo stia dando segnali importanti di dinamismo, apportando anche nuove idee che nel futuro prossimo sicuramente faranno fare al Parco un salto di qualità, quello di cui c'è bisogno perché il Parco è un bene di tutti, è vero, ha un pregio anche naturalistico, ambientale e questo va protetto, però è anche un patrimonio che può essere maggiormente fruito dai cittadini, dalle persone, cogliendo anche questa sensibilità sempre maggiore che si dimostra verso la natura, verso il turismo verde e il Parco può offrire infinite possibilità per dare soddisfazione anche agli appassionati di quel genere di turismo, ma non solo perché una passeggiata nel Parco, una visita al Parco è comunque una cosa che fa bene a tutti. Innanzitutto bisogna rilevare il ritardo notevolissimo con cui questi atti giungono all'approvazione nelle aule del Consiglio regionale della Toscana, un tema che già di per sé giustifica la bocciatura da parte del gruppo della Lega di questi atti, che ripeto giungono con un ritardo di almeno un anno se non superiore a quello che sarebbe la fisiologica procedura dell'approvazione di questi documenti. Oltre questo ragionamento il gruppo della Lega ha messo in evidenza il fatto che forse il sistema dei parchi regionali andrebbe ripensato. Andrebbe ripensato perché c'è una diminuzione dell'investimento, dell'impegno economico da parte della Regione Toscana, che fa pensare anche dal punto di vista dell'approccio che la Regione Toscana intende dare a questi riferimenti così importanti per quanto riguarda il nostro territorio, che si va ad aggiungere in un quadro già di difficoltà perché il venir meno delle province aveva già di per sé ridotto quello che era l'impegno economico e che ulteriormente aggrava un'altra questione sul quale sono intervenuto a più riprese durante la discussione sia in Commissione Quarta che in Consiglio regionale e che è la difficoltà dei versamenti delle quote da parte dei Comuni che fanno parte della comunità del Parco. Anche qui è stato rilevato, per esempio per il Parco Migliarino San Rossore, per quanto riguarda il bilancio consuntivo 2021, addirittura una cifra superiore a un milione per le quote non pagate. E in particolar modo il Comune di Vecchiano, a mia richiesta precisa agli uffici del Parco Migliarino San Rossore, risulta ad oggi ancora in ritardo di ben 228 mila euro. Noi vogliamo verificare una cosa che verificheremo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. C'è un patto tra il Quirinale, quindi la Presidenza della Repubblica, è il Parco di Migliarino Massaciuccoli e San Rossore che riguarda la tenuta di San Rossore che è all'interno del Parco e prima la tenuta del Presidente della Repubblica che prevedeva che il Quirinale versasse alla Regione Toscana per la gestione della tenuta 4 miliardi e 200 milioni di vecchie lire l'anno che equivalgono a 2 milioni di euro. In realtà la Regione Toscana versa al Parco circa 800 mila euro l'anno. Quindi noi vogliamo capire se quei 2 milioni continuano ad arrivare dal Quirinale e poi la Regione li trattiene anziché per San Rossore nella pancia del bilancio regionale oppure se quei soldi non arrivano. Quindi vogliamo capire meglio questa vicenda, intanto la segnaliamo ma stiamo facendo gli atti opportuni per poterla mettere in maniera più decisa alla luce della pubblica opinione. La valutazione è sbalorditiva perché dopo diciamo sempre le stesse cose arriviamo sempre in ritardo, viene approvato un bilancio che doveva essere approvato un anno fa e la cosa che mi risulta un po' strana è che dall'accesso atti che avevo fatto anche sui documenti relativi ad un concorso che aveva portato alla selezione e all'assunzione di una nuova persona in amministrazione vengo adesso a sapere che hanno necessità di un'altra persona. Quindi mi pongo un po' di dubbi sulla validità di quel concorso. Sono cose che dovrebbero essere approfondite. Sicuramente la regione toscana non può continuare ad approvare bilanci in ritardo di tutti i suoi parchi dovrebbe veramente porci un pensiero, un'attenzione, una programmazione e arrivare a valorizzarli perché altrimenti così sono solo organismi che non servono praticamente a niente, servono solo a perdere dei soldi e quindi bisogna prendere una decisione o si finanziano o si cambiano le persone perché qualcosa vuol dire che non funziona. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge rivolta al Parlamento ed elaborata dalla Commissione Cultura e Istruzione del Consiglio che introduce la pratica della lettura libera nel primo e secondo ciclo di istruzione. L'atto dispone che le istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia disciplinino tale pratica come attività periodica da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio. Le modalità attuative prevedono che si assicuri agli studenti e autonomia nella scelta del materiale di lettura, che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo e che l'attività abbia una durata continuativa di almeno 15 minuti, preferibilmente fissati con cadenza quotidiana all'inizio della giornata scolastica. Il testo della proposta di legge specifica inoltre che dalle disposizioni non debbano derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto. Con molta soddisfazione, oggi il Consiglio regionale all'unanimità ha varato la proposta di legge al Parlamento italiano, la numero 10, che sarà inviata alla Camera nei prossimi giorni, con la quale si chiede al Parlamento di approvare una piccola modifica della legge del 2020 che recava come titolo disposizioni sulla promozione della lettura e che vorrebbe introdurre ogni giorno a scuola almeno 15 minuti di lettura libera. Uno spazio libero per recuperare con la lettura un rapporto, diciamo, più legato alla passione che all'obbligo. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno che può offrire. Devo dire che ci ha invitati a questa riflessione una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2022 sulla base della quale si dimostrava che durante il lockdown il 51% dei ragazzi tra 11 e 18 anni aveva aumentato il numero di libri letti. Questo ci ha fatto pensare che avendo meno distrazioni con le condizioni diciamo di contesto adeguate un rapporto con la lettura non era in viso ai ragazzi era anzi veniva coltivato. Quindi abbiamo pensato perché non creare questa opportunità ogni giorno a scuola in modo da radicare una buona abitudine sappiamo che anche le cose che ci fanno bene spesso non ci abituiamo a farle invece la ripetizione quotidiana può portare appunto a maturare una relazione differente con la lettura. Gli studi dei neuroscienziati ci dicono poi che almeno 15 minuti è il tempo necessario per cadere in quella condizione di entrare in quella condizione di lettura profonda ci vogliono mille secondi e quindi abbiamo indicato nella legge almeno 15 minuti in modo che gli insegnanti le scuole liberamente possano organizzarsi. Devo dire che non è un'assoluta novità perché nel paese esistono già moltissime buone pratiche di questo tipo messe in atto da scuole da enti locali o anche da organizzazioni per esempio il Festival Letterature di Mantova la città di Brescia il Friuli Venezia Giulia ha fatto un progetto regionale e molti molti altri ma diciamo in questo caso il vantaggio di poter disporre di un tempo di questo tipo ricadrebbe solo su alcuni ragazzi la legge che noi vogliamo proporre al Parlamento è un modo per generalizzare questa che riteniamo sia un'opportunità per offrirla a tutti i ragazzi e le ragazze italiane a tutti i bambini e le bambine e devo dire che ci aiuta questo anche su un altro fronte gli italiani non sono un popolo di lettori forti in pochi leggono più di un libro al mese insomma abbiamo numeri non troppo confortanti dal punto di vista della lettura questo non è un male in sé soltanto ma incide anche sulla nostra capacità di comprensione funzionale dei testi sappiamo che il 70% degli italiani soffre di una forma di analfabetismo funzionale cosiddetto cioè di fronte a un testo mediamente complesso di poche righe il 70% dei nostri concittadini fatica a comprenderne il significato questo non significa non sapere tecnicamente leggere ecco la lettura è il primo antidoto a fronte di questo ed è anche uno dei pilastri della maturazione del senso critico quindi crediamo che cominciando a scuola nelle scuole di ogni ordine e grado fin da piccoli a leggere ogni giorno 15 minuti per conto proprio preferibilmente dalla carta e questo non per demonizzare gli altri supporti ma soltanto per fare un po' da controcanto al fatto che abbiamo sempre tutto il telefonino in mano per tutto il giorno se 15 minuti 20 minuti o mezz'ora lo lasciamo da parte e prendiamo in mano un libro un giornale un fumetto qualcosa che però abbia una materialità differente possa soltanto aumentare la suggestione e la capacità di maturare una passione ecco quindi con molta soddisfazione la commissione quinta l'aveva proposto unanimemente è un frutto degli stati generali della cultura in Toscana e il consiglio regionale ha accolto all'unanimità questa proposta per mandarla abbiamo scelto alla Camera dei Deputati è un'esperienza che già c'è stata in Italia in Lombardia insieme alla Norvegia hanno visto che leggere per 15 minuti perché si parla di 15 minuti per ogni mattina però in classe qualunque cosa perché può essere un libro una rivista un fumetto però è una lettura silenziosa che ogni alunno alunna fa e anche l'insegnante serve a che cosa la lettura? la lettura serve a ampliare il vocabolario sicuramente perché oggi sappiamo anche che è molto ridotto il vocabolario dei giovani quindi a comunicare meglio il nostro pensiero inoltre secondo me e secondo anche diciamo chi studia queste cose serve a sviluppare il pensiero critico se non è la lettura a svilupparlo chi può essere? e quindi siamo favorevoli a questo tipo di a questa proposta di legge che ogni singola scuola adeguerà alle proprie esigenze nel primo e nel secondo ciclo ovviamente